Questa città ha raccontato molte storie su di me. Storie orribili. Ma non si è resa conto che conoscevo anch'io storie spaventose. Sarah Bellogs. Raccontami una storia. Nel libro di Sarah Bellogs, le storie si scrivono da sole e tutto prende vita. Non sei tu che leggi il libro. È il libro che legge te. Sarah! Penso che morirò, papà. Sono il prossimo. Siamo i prossimi. Sì. 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 Sì.